Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha annunciato che il decreto sull'ILVA andrà alla Camera martedì. Martedì va in aula alla Camera. Abbiamo appena finito la riunione delle commissioni Ambiente e Industria. Per il ministro Clini le modifiche al testo del decreto migliorano in maniera più esplicita la componente salute. La direzione è quella buona, ha aggiunto il ministro tornando sull'argomento dello stabilimento ILVA a margine della consegna del premio Impresa Ambiente 2012. Riconoscimento assegnato alle imprese verdi che si è svolto al Tempio di Adriano a Roma. Il Parlamento martedì vota il decreto legge alla Camera e poi andrà al Senato.